ciao a tutti sono sempre il greg e questo mio canale in genere horror troll è un monster movie norvegese di produzione norvegese e di ambientazione norvegese la trama è semplicissima nel senso che qui abbiamo a che fare con un troll che è un mostro in questo caso un gigante mostruoso che se ne esce dalle rocciose profondità delle montagne norvegesi e comincia a devastare tutto quello che si trova davanti avanzerà verso la città e dovrà essere fermato dai protagonisti del film che come al solito in questi casi succede sono un comitato composto da parti politiche governative militari e scienziati di fatto questo è il film e poco altro c'è se non la differenza rispetto a molti altri film già visti di questo genere è l'ambientazione norvegese e il personaggio il principale il mostro che è un troll ma al di là di questo al di là della del fascino e della di proporre un mostro diverso dal solito un gigante diverso dal solito in un'ambientazione diversa dal solito quindi portando avanti la tradizione fiabesca delle del norvegese che viene ricalcata parecchio ma viene ricalcata fin troppo quasi rendendo però ridicole le soluzioni che vengono messe in campo per risolvere la questione per fermare il gigante di turno ecco diciamo che forse lì cominciano a evidenziarsi i primi difetti difetti che purtroppo sono parecchi in questo film il primo il principale è quello dell'imitazione una imitazione troppo dettagliata alla lettera di film già visti qui siamo di fronte a un misto fra un Jurassic Park un King Kong e un Godzilla alla norvegese quindi cambia l'ambientazione cambia il gigante di turno ma di fatto troppe quelle che non sono neanche citazioni perché la citazione della tazzina che con il caffè che si muove all'interno quando i passi del gigante fanno vibrare tutto più che una citazione sembra quasi una scopiazzatura perché alle volte citare un film o essere derivativi no alle volte sempre deve essere caratterizzato da una messa in scena comunque originale qui ci sono delle scopiazzature di vere e proprie scene già viste anche il tema stesso è un qualcosa di già visto la natura che si ribella ma di fronte a quella che è l'avanzata oltre certi confini dell'uomo qui stanno scavando per scavando gallerie binari per nuovi treni insomma qui stanno stanno scavando nelle montagne e questi lavori hanno creato la fuoriuscita di questo mostro che non è altro che la vendetta o meglio la rivalza della natura verso un uomo che che sta devastando la natura il messaggio ci sta ed è un messaggio che è presente anche in altri film come come ho già detto in film già visti però più che essere un Godzilla alla norvegese con un personaggio diverso da Godzilla altro non c'è l'originalità di un soggetto non può essere determinata solo da un personaggio diverso rispetto a un altro quindi viene sostituito il personaggio e l'ambientazione e questi piccoli cambiamenti sono troppo poco per poter rendere il film originale tra l'altro renderlo riuscito anche perché al di là dell'originalità si può riproporre un film che può essere derivativo finché vogliamo ma qui manca totalmente anche l'originalità della messa in scena che sembra copiata anche quella dai film già citati le situazioni i personaggi caratterizzati come sono già caratterizzati in questi film il modo con cui viene viene reclutata la scienziata di turno già vista il modo con cui in cui si relazionano i personaggi già visto i dialoghi e i momenti in cui vengono dette le battute già visto negli stessi tempi con le stesse tempistiche con i stessi stessi momenti narrativi già visti purtroppo è troppo ripetitivo tutto questo cioè non si può vedere un film che è la stessa fatto nella stessa maniera con gli stesse con la stessa messa in scena con lo stesso tipo di montaggio con gli stessi tipi di protagonisti e praticamente gli stessi dialoghi che già si è visto nei film come appunto Jurassic Park e King Kong e Godzilla di turno più che altro le riproposizioni ultime di film della tradizione neanche riproponendo film del passato che già avevano detto tanto a livello di argomenti ed approfondimenti sulla natura e quanto l'uomo possa essere nocivo per la natura e come la natura potrebbe in questi casi rispondere chiaro in maniera fantastica in questi film però la rivalcia la vendetta della natura stessa però voglio dire se è già stato approfondito questo argomento lo si può riproporre perché sono il primo a dire che i film possono essere riproposti e possono essere derivativi ma se un film invece di essere derivativo è una copia è una copia per filo e per segno sequenza per sequenza di un qualcosa già visto al di là di un personaggio nuovo che può essere simpatico fatto anche bene o divertente negli effetti visivi negli effetti speciali al di là di questo altro non c'è quindi non c'è neanche c'è anche poco altro da dire di questo film purtroppo sono di più i difetti che ho già elencato rispetto ai pregi cioè la simpatia del personaggio e tutto sommato anche degli effetti speciali utilizzati bene che rendono il film anche piacevole in alcuni momenti però sentire le stesse battute vedere gli stessi personaggi e avere gli stessi lo stesso montaggio la stessa regia di un qualcosa già visto quindi anche una struttura narrativa un'evoluzione uno svolgimento narrativo che si conosce già dall'inizio alla fine fino a finale fino anche alla scena a metà dei titoli di coda che è telefonatissima banalissima e già vista non solo in questi tipi di film ma in tutti i tipi di film dove c'è il finale il secondo finale quello a sorpresa troppo troppo banale perché perché troppe volte sono stati utilizzati questi espedienti non dispiace parlare male effettivamente di questo film ma un film in cui non non si riesce si parte bene come idea si parte bene nel voler dare un significato profondo a un classico monster movie ma poi alla fine il messaggio diviene piuttosto retorico e con questo gruppo di persone che protestano davanti agli scavi per la galleria eccetera il ruolo del mostro il ruolo della scienziata di turno che cerca di comunicare col mostro film verrebbe situazioni veramente già viste in film brutti e belli del passato quelli originali e le scopiazzature anche scopiazzature di film di serie z ci sono veramente troppi troppi momenti che si ripetono e che sono telefonati si sa già dall'inizio alla fine cosa succederà e succede esattamente quello che ci si aspetta dall'inizio alla fine perché si è già visto decine decine se non centinaia di volte quindi dispiace anche parlarne male ma non riesco a trovare degli aspetti positivi di un film che è serioso quando dovrebbe essere un po' più ironico quindi si prende un po' troppo sul serio quando non dovrebbe tira fuori degli argomenti che dovrebbero essere tirati fuori con un po' più di intelligenza narrativa perché parlare delle favole delle fiabe legate ai troll i personaggi che ci credono quelli che non ci credono le soluzioni le soluzioni per fermare il mostro tirando fuori le soluzioni fiabesche potrebbe essere originale ma fatto come è stato fatto nel film scade nel ridicolo purtroppo scade nel ridicolo involontario quindi il film quando vuole essere serio va oltre e diventa serioso e non si prende troppo serio scusate il gioco di parole ma è questo quando deve essere ironico lo fa con stupide battute che già anche queste sono le battute classiche dei film già visti soprattutto le riproposizioni americane dei classici del passato e quindi c'è poco da salvare a questo punto perché c'è poco che intrattiene l'unica cosa che intrattiene è appunto questo gigante questo troll che diverte sostanzialmente è simpatico come come figura come come gigante ma al di là di questo poco altro ripeto è un peccato parlarne male mi dispiace parlarne male ma non ci sono poteva essere un bel film perché in norvegia si producono bei film e questo qui se fosse stata dosata bene la parte ironica la parte seria e la narrazione avesse preso un qualcosa di più originale allora il film sarebbe ne cito uno shin gozilla è sempre il film su gozilla però shin gozilla se lo avete visto è un film decisamente fuori dagli schemi è diciamo bizzarro decisamente bizzarro quando lo deve essere sa incutere tensione quando è vencuta la tensione e lascia sempre il dubbio se ci si trovi davanti a un film serio o no qui il dubbio viene viene subito fugato dal fatto che quando è serio è troppo serio quando ironico troppo stupido purtroppo è così dispiace ma è così almeno questo mio punto di vista per carità ma ho visto mi ha dato questa sensazione alla prossima